Tipicità 2016, Andrea Passacantando, presidente Copagri Macerata, un'impressione a freddo sulla fiera Andrea? Penso dalle nostre spalle si vede il pubblico come sta entrando, quindi sicuramente l'aspettativa è stata mantenuta. Tipicità è una bella vetrina per tutte le nostre eccellenze del territorio, quindi come Copagri non potevamo non mancare con le nostre eccellenze, soprattutto le nostre eccellenze agricole, quindi con il nostro stand siamo pronti, abbiamo veramente deliziato, è fatto assaporare le nostre eccellenze ai tanti consumatori che ci sono venuti a trovare, quindi noi siamo sempre pronti, siamo sempre operativi, vogliamo essere promotori del nostro territorio perché le nostre aziende agricole devono incontrare dei consumatori consapevoli perché sono i consumatori che fanno il mercato. Ma c'è un prodotto di cui ho sentito molto parlare, soprattutto anche in Copagri, la canapa? Eh sì, c'è la canapa, ogni volta che si sente parlare di canapa si ha subito dei riferimenti e dei collegamenti un po' strani, però la canapa si può mangiare, soprattutto la canapa sativa senza principio attivo. e attivicità, in esclusiva proprio per anticipità, abbiamo anche fatto una degustazione con lo chef Carteghini che è un po' lo chef della canapa per eccellenza e quindi abbiamo incontrato più di 100 persone e abbiamo fatto un menù completo proprio degustando la canapa perché la canapa ha delle grandi proprietà organolettiche che fa veramente bene al nostro organismo. E dalle Marche è proprio iniziato e quindi visto che qui siamo un po' il Festival delle Marche siamo stati contentissimi di essere stati ospiti e di aver promosso anche questa cultura. Grazie Andrea e complimenti. Grazie a voi.